posto giusi che vuole dirvi qualcosa per stasera no c'è di marcia ciro che bastarda abbiamo detto bastarda dentro abbiamo cirutto la bobo tv ci dà del tu ricorda parlare della nostra costata con patate arrosto meglio delle ultime due cene allora meglio lei non viene mai con noi ci scredita gli scherzi di attivo gusto trovati un olore per noi non sicuramente portarlo a cena stasera abbiamo mangiato una bistecca il tavolo c'è maniato 2 kg di patate